Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Il 2 composto da Mara Veniere e Stefano De Martino potrebbe diventare realtà nella prossima stagione televisiva. In queste settimane, a un passo dalla chiusura di tutti i programmi di punta di Rai e Mediaset, per il prossimo anno c'è nell'aria una vera e propria rivoluzione. Tra grandi e piccoli cambiamenti, tutti i palinsesti, a quanto pare subiranno delle modifiche importanti. Tra addii che hanno fatto il giro del web, sono previste anche nuove collaborazioni, come nel caso di Mara Veniere e Stefano De Martino. Oltre a loro anche, il possibile ritorno di Pino Insegno e Caterina Balivo. Dopo aver concluso la sua avventura su 9. È in arrivo una nuova domenica in. In questo periodo di stop dalle registrazioni e dirette. Solitamente si iniziano a ipotizzare novità e cambiamenti da apportare alle trasmissioni. Se inizialmente, era balenata l'idea di spostare domenica in negli studi di Napoli. Questa ipotesi è stata ben presto cancellata. Lasciando le cose così come stanno. In riferimento a Mara Veniere e al suo futuro nella trasmissione di intrattenimento. Andrea De Maio ha dichiarato. Mara è una certezza e oggi è molto difficile immaginare un'altra domenica. Soprattutto su Rai 1. Servirebbe un cambio generazionale per pensare a qualcosa di diverso. Sicuramente per la prossima stagione ci sarà e continuerà ad esserci finché lei lo vorrà. Funziona talmente bene che sarebbe insensato cambiare. Come stanno davvero le cose? Per quanto i diretti interessanti vorrebbero davvero lavorare a stretto contatto. Data l'amicizia che li lega da anni. In realtà le cose sono ben diverse. Come dichiarato da Adriano De Maio, vice direttore dell'intrattenimento daytime della Rai. La conduttrice Mara Veniere tornerà ancora una volta al timone di domenica in ogni domenica pomeriggio. Mentre per quanto riguarda Stefano De Martino, dato il grande successo, per lui ci sarà una nuova stagione su Rai 2 del Game Show stasera tutto è possibile. Pertanto, ogni ipotetico scambio di rete è stato assolutamente smentito. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao. 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 Ciao.